Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per fare una nuova puntata edicola. Allora ragazzi, oggi apriremo insieme ben nove bustine di Creature X, bruchi contro millepiedi, e questa, ovvero una rivista sempre di Creature X, con all'interno appunto un personaggino. Allora, direi di incominciare subito partendo dalle bustine. Allora, insieme alle bustine vi consiglio di prendere anche appunto questa rivista, dove appunto ci mostra tutti i personaggi che potremmo trovare, eccoli qui. E poi alla fine ci sono anche dei giochini. Allora, direi di incominciare subito. Il prezzo è di 3,50€, allora vediamo i personaggi. Allora, sono 3, 6, 9, 12. Allora, sono Dragorosa, Sfinge della Vite, Sfinge dell'Euforbia, Bruco della Sella Verde, il Millepiedi, il Bruco dagli Occhi Marroni, Scutigera, Pavonia Minore, Bruco del Perù, Centopiedi del Cile, il Mecaone, e poi lo scolopendola dalla testa rossa. Ok. Apriamo la prima bustina. Vediamo. Oddio. Wow. Allora, dovrebbe essere appunto questo. Allora, toccandolo nella bustina può sembrare un po' inquietante, perché in effetti sembra un vero verme, un vero millepiedi, però poi visto, comunque è abbastanza carino, insomma, non fa poi così tanta paura. Eccolo qua. Tra l'altro si allunga tantissimo, guardate. Wiii. Ok, andiamo avanti. E apriamo l'altra bustina. Vediamo. Oddio. Wow. Oddio. Se non sbaglio dovrebbe essere questo. Sempre un millepiedi. Il millepiedi gigante africano. Allora, questo è abbastanza appiccicoso e può già fare un po' più di impressione, insomma, vedendolo così. Però, per fortuna, non spaventa. Anche questo è super allungabile, anzi, forse più dell'altro. Guardate quanto si allunga. Ed è super appiccicoso, davvero. Guardate. Cioè, penso si possa appiccicare dappertutto. Aiuto! Oh, si sta appiccicando le dita. Oddio, cos'è sta cosa? Oddio. Sarebbe questo. Quindi, un bruco. Allora, inizialmente, vedendolo dalla bustina, poteva un po' impressionare, però in realtà non è brutto, dai. Poi, fa tantissime bolle, guardatelo. E tipo, si appiccica un po'. Vedete che rumore strano che fa? Poi, vediamo. Vediamo, vediamo. Wow, allora. Allora, questo è appunto un doppione, quindi lo lascio in questa sua carta, perché è abbastanza appiccicoso. Proprio di quella appiccicosa dovevo trovare il doppione. Poi, vediamo, vediamo. Vediamo. Wow, ok. Sarebbe appunto questo, il bruco del Peru. Ok, sinceramente, questo un po' di impressione la fa, anzi, abbastanza, specie la faccia. Come potete notare, la faccia è un qualcosa di incredibile, è bellissimo. E anche il corpo è abbastanza strano, questa collinetta. Ok. Poi, poi, poi. Apriamo un'altra bustina. Vediamo. Un altro doppione. Ma quanto sono fortunata oggi. Mettiamolo insieme ai doppioni. Anzi, magari avviciniamo un po' questi. Mettiamoli tutti insieme. Va bene, questo lasciamolo qua. Che fortuna che ho oggi. Prendiamo un'altra bustina, sperando di non trovare doppioni. Vediamo. Ok, non è un doppione. Ok. Penso sia questa qui, la sfinge dell'euforbia. però a vederla, almeno di faccia, non fa paura, anzi, è carina, perché ha questa faccina così, cioè, tre puntini praticamente sarebbe la faccina. Non è brutta, anzi, questo è carino, dai. Allora, non considerando i doppioni, abbiamo trovato cinque personaggi. mancano due bustine, quindi speriamo di non trovare altri doppioni, perché tipo sarebbe la mia giornata fortunata a questo punto. Vediamo. wow, no, aspetta, forse è questo, il bruco dagli occhi marroni, oppure, ok, questo fa un po' di paura, specie per la faccia, tipo, ritrovarselo, non lo so, sul letto, spaventerebbe chiunque, quindi, è ottimo per fare scherzi. l'ultima bustina, vediamo, vediamo, è un altro doppione, che bello, oggi tre doppioni, cioè, davvero oggi, non ho parole, su nove bustine, tre erano dei doppioni, almeno questo qua era quello carino, almeno. Allora, che dire di questi bruchi, contro millepiedi, di Creature X, se vi piacciono, insetti, appunto, bruchi, e millepiedi, ve li consiglio, insomma, sono fatti molto bene, e quindi, per, un fan, di queste creature, sarebbero, cioè, piacerebbero sicuramente. Sinceramente, mi dispiace il fatto di aver trovato dei doppioni, perché, insomma, che cavolo, tre doppioni, oddio, vabbè, passiamo oltre. Adesso, vediamo insieme, questa rivista. Allora, apriamo subito, proprio, la, la busta. Allora, c'è anche questo, questo, penso sia un drago, a tre teste, ma adesso, lo vedremo, insieme a, ecco, appunto, lo diceva anche qui. qui. Allora, vediamo, prima di tutto, il personaggio. Allora, appunto, è un drago a tre teste, non l'avevo letto, vabbè. Allora, a queste, a me sono sempre piaciuti i draghi, solo che è un pochino strano, questo drago, e tutte queste teste. Comunque, dai, non è male. Poi, se vi piacciono, come piacciono a me i draghi, insomma, sarebbe bello aggiungerlo alla propria collezione. Poi, devo dire che è fatto abbastanza bene, perché ci sono molti dettagli, vedete, sulla coda, anche sulle ali, e poi, anche sulle varie teste, vedete? O, sia gli occhi, che alcuni dettagli, qui, vedete? Insomma, dai, non è male. Per quanto riguarda, il magazine, allora, vediamo, gioca, divertiti e impari. All'interno, il mega poster, wow, addietro ci sono altri oggetti, ok. Sarebbe, appunto, un magazine che parla un po' di tutto, non solo di animali del genere, tipo, vermi, insetti, ma un po' di tutto. Infatti, qui, parla della, della, balenottera azzurra. E parla un po', poi, qua, continua, la chiamata, la regina dei mari, c'è anche un piccolo giochino, poi, poi, qui parla del drago di comodo, comodo, e sarebbe un rettile, tipo, una lucertola, solo di, che misura fino a tre metri e mezzo, wow. Qua parla degli scorpioni, oddio, io avrei sinceramente paura a tenere in mano uno scorpione, ma ok. Poi parla dei pipistrelli, ci sono anche dei giochi, ah, wow, e qua dice anche a, a che distanza si può sentire, appunto, il ve, l'orso di vari animali, per esempio, il rugito del leone fino a 2500 metri, oddio, il verso del picchio nero a 600 metri, il tubare dei colombi a 500 metri, poi il canto del luce gnoli a 150 metri, il verso del rospo a 150, il frinire delle cavallette al 38, e il rongio delle zanzarate a 100 metri. Wow, insomma, il rugito del leone, non immaginavo così tanto. Poi, qui, parla di alcuni tipi di dinosauri, in questo caso, in questo caso volanti, e sarebbe appunto il Pteranodonte, ed è uno dei più grandi dinosauri volanti mai esistiti. Wow! E ha le ali più lunghe e più larghe di un elefante. Wow, oddio, non l'avrei mai pensato. Quindi, insomma, se vi piacciono gli animali in generale, non solo insetti, oppure rettini, ma tutti gli animali in generale, vi consiglio di acquistare questo magazine. Poi, ci sono anche tanti personaggi simpatici. Bene, adesso passiamo i saluti. con un saluto! Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!